Per Settimana Sport siamo con Bacicalupa Andrea, allenatore della Cogornese. Allora, direi Andrea, una sconfitta su rigore che forse non ci poteva stare perché le due squadre in campo si sono equivalse. Avete fatto un buon campionato, avete perso la possibilità di giocarvela con la Cogornese, cercando anche di poter salire perché la partita di domenica scorsa con, mi sembra, il Borgoratti vi ha tagliato le gambe. Sì, sicuramente la possibilità di giocarci questa partita come una finale non l'abbiamo persa domenica scorsa, ma nei vari passaggi a vuoto che abbiamo avuto durante la stagione che comunque ci stanno. Però non posso fare altro che complimenti alla squadra perché ha giocato un ottimo campionato, anche oggi ha fatto partita vera, a discapito di chi diceva altro e poi faceva complimenti alla Cogornese perché ha vinto il campionato, quindi merito a loro, ma la Cogornese ha fatto una grande annata. Direi anche una bella soddisfazione, scusami, indipendentemente dal risultato per te, se non sbaglio, tu allenavi in seconda o in terza categoria, poi sei arrivato alla Cogornese, hai fatto un ottimo campionato lo scorso anno e diciamo quest'anno ti sei ripetuto. Sì, io diciamo che c'è stata una scommessa per la Cogornese e per questo sono grato alla Cogornese, ero in terza categoria, nei due anni di Covid abbiamo giocato poco, quest'anno è il primo anno che si riusciamo a portare a termine e sicuramente è positivo anche se penso che ci bastava poco per fare ancora meglio. Senti, una domanda un po' cattivella, il vostro bomber Molinelli vi è mancato nelle ultime partite? Sì, direi importante Molinelli perché io quando ho visto giocare Molinelli la squadra giocava in un altro modo, era più pericolosa. Sì, bomber ha fatto poi tra quattro gol, quindi diciamo bomber per ruolo, non tanto per numero di gol che fa, però sicuramente ha caratteristiche per cui noi non abbiamo un doppione e quindi questo ci obbliga a giocare diversamente e facciamo un pochino più fatica senza di lui, senza, ripeto, nulla a togliere a chi ha giocato. Ma certo, certo, senza altro, senza altro. Sì, hanno fatto un'ottima stagione. Sì, no, io lo dicevo perché almeno nelle partite nelle quali vi ho visto, Molinelli tiene molto la palla che arriva, diciamo, dal fondo, dimmi se sbaglio perché io non sono un tecnico, la tiene, la smista, ma magari con altri giocatori di altre categorie non hai potuto fare questo tipo di gioco. Sì, ha caratteristiche, da prima punta vera, fa tanto lavoro sporco, non fa tanti gol, ma fa tanto lavoro sporco e in queste tre partite ultime ci è mancato, sì, sicuramente, abbiamo provato a recuperarlo per questa, ma non ce l'abbiamo fatto. Adesso, scusami, play-off, andrete se non vado a Rata Calvari e poi se passate il turno ve la giocherete con Rapallo. Esatto, andremo domenica a Calvari a giocare contro la Calvarese avendo un solo risultato a disposizione perché per la differenza reti loro sono avanti a noi e nel caso in cui dovessimo vincere ci sarà la finale dei play-off a Rapallo. Peccato, peccato perché, diciamo, questi play-off in questo girone specialmente è stato molto combattuto, ci sono state delle squadre molto valide, voi, Rapallo, la Calvarese e purtroppo la seconda, se non sbaglio, in quanto ci saranno parecchie retrocessioni della serie di squadre Ligure, la seconda non salirà. Sì, a noi spiace essere arrivati quarti per la differenza reti, oggi tra le altre cose abbiamo perso una partita sul rigore, come dicevete prima, alquanto dubbio se non inesistente, però è difficile che poi vincendo anche i play-off si possa accedere alla categoria superiore, anche perché dopo aver vinto i play-off del girone si va a fare un giro nell'italiana contro le vincitrici dei play-off degli altri gironi, quindi comunque è difficile, anche se è stimolante, perché ti vai ad incontrare contro realtà che non hai affrontato durante l'intera stagione. Ok, grazie e in bocca al lupo per i play-off e per il prossimo campionato. Grazie. Ciao.